Franco Genzale presenta la siringa di Mila Martinetti. Giusto, bravo, bis. Peccato che De Caro sostiene la candidatura al sindaco di Gerluca Festa, cioè uno che è istritto ed è dirigente di quel PD Irpino che il deputato Sannita non riconosce e che addirittura ha trascinato in tribunale. Forse è tempo che l'ex sottosegretario si metta d'accordo almeno con se stesso. Grazie a tutti.